Siamo a Serrungarina, alla Sala dei Presepi, per il terzo evento di Terre Creative. Terre Creative nasce come progetto per avvicinare i giovani dell'ambito territoriale numero 7 alla cultura del cibo. Io faccio parte dell'Associazione Ambasciatore Territoriale dell'Enogastronomia, che è stata appunto chiamata da questi ragazzi a collaborare con loro alla creazione di questi momenti. Oggi abbiamo parlato di proverbi e di proverbi soprattutto legati al cibo, a tutto quello che ruota intorno alle stagioni e ai cicli delle culture. Abbiamo titolato questo evento Il contadino non far sapere proprio perché siamo a Serrungarina e abbiamo deciso di dare rilevanza e importanza a due prodotti, cioè la perangelica proprio di Serrungarina e il formaggio di Vittorio Beltrami di Cartoceto insieme ai vini di Roberto Lucarelli. Così da unire due comuni, Cartoceto e Serrungarina, dell'ambito territoriale numero 7 anche in questa degustazione. Siamo qua insieme a Tommaso Lucchetti, che è lo storico della cultura conviviale ed esperto appunto di proverbi, di questo tema su cui ha scritto anche un ultimo libro, che ha tenuto questa conferenza bellissima proprio sui proverbi. E' stata l'occasione per fare una sintesi attorno a un proverbio che è tra i più antichi, quello che al contadino non è il caso di far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Ma era molto intelligente, Sara Braccia ha costruito attorno a questo proverbio il modo di unire due tipicità del territorio, identificative, la pera angelica presso Rongarina e i formaggi per Cartoceto, ma per tutto quanto questo territorio che da sempre è eccellente per quanto riguarda l'arte casearia, fin da documenti antichi nel tempo. Il senso era quello di far capire come i proverbi sono appunto come ho avuto modo di dire in un mio libro che era solo l'inciropedia dei poveri, ossia l'occasione per tante generazioni non alfabetizzate dove veramente si trattava di mandare a mente alcune nozioni di base, spesso in rima baciata perché così potevano meglio attaccarsi alla memoria come se fossero veramente una filastrocca, una qualche musicalità li potesse far riconoscere. Attraverso queste piccole frasi che sono eterne, ricordiamoci c'è il libro dei proverbi anche nella Bibbia, il proverbi metteva assieme quella che era la cultura filosofia, quelli che potevano essere alcuni precetti anche morali, di natura etica, con invece anche insegnamenti di natura pragmatica, concreta, materiale, quindi precetti sul coltivare, precetti sul mettere in dispensa, precetti sul cucinare e sullo stare in tavola. La saggezza quindi legata a quello che era il mondo del cibo che una volta, ricordiamocelo, era veramente essenza stessa della vita in epoche in cui veramente l'esistenza era particolarmente dura, falcidiata da carestie, da epidemie, da problematiche, saccheggi, per cui veramente il vero incubo era garantire che ci fosse sempre qualcosa sulla tavola giorno dopo giorno. E questi proverbi era sicuramente un insieme di saperi che provvedeva appunto a portare avanti. Al contadino non è il caso di far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. È un proverbio che riporta sicuramente in una memoria plurisecolare quello che era il precetto della scuola più antica, medico salernitana, cioè comunque di tutta quanta quella che era la medicina premoderna, il mettere assieme cibi che avessero caratteristiche di sapore diverso, caratteristiche proprio anche strutturali diverso, un sapore estremamente sapido, secco, contro invece un sapore che si potesse accompagnare e bilanciare, che era invece umido, dolce, come poteva essere quello del frutto della pera. Quindi era proprio la saggezza più antica, legata alla più antica precettistica medico-alimentare, che i signori portavano avanti, sul dire che potesse essere un'ottimale conclusione per il pasto. E questo sapere appunto viene passato in questo modo al mondo contadino che si appropria di quello che era un precetto alto e lo fa completamente proprio. Dalla tavola non alzarti mai se la bocca non sa di formaggio. Il formaggio è sempre considerato come digestivo e chiusura ottimale, dalla cultura gastronomica alta a quella bassa, contadina. La minestra con i fagioli contenta tutti i figlioli. I fagioli erano sfamante, ottimale, quando si avevano molti figli. La polenta è la man di puretti. La polenta è la man dei poveretti. Polenta, sia di mais che prima ancora di alde cereali, era veramente il sostentamento primario, la piotanza onnipresente nelle classi contadine.